Brutto episodio, brutto episodio, anche la app di OneFootball riporta bene i particolari di quello che è successo ieri durante Milan-Inter. Chessy viene cambiato, dopo essere stato messo terzino per qualche minuto, ieri ha cambiato molto Gattuso, cercando in vano di trovare la quadratura di un cerchio che è sempre rimasto rotondo e mai quadrato, purtroppo per il Milan. Chessy esce, Gattuso gli fa un cenno di andare a salutare Conti, invece va dritto, dritto, dritto in panchina, senza salutare Conti, il suo compagno che entrava, e senza salutare Gattuso, come Gattuso sempre pretende l'educazione innanzitutto. Nel frattempo Biglia si sta scaldando, continua a scaldarsi, a un certo punto la decisione di Gattuso di riportarlo in panchina, probabilmente, dalla ricostruzione, o anche l'app di OneFootball ben circostanzia, Biglia gli dice qualcosa, gli dice guarda che devi sempre andare a salutare il compagno, non ci si comporta così, Chessy perde la testa, e invece vorrebbe andare a dire qualcosa, vorrebbe addirittura fare qualcosa contro Biglia, quindi fratelli di Maglia, che in quel momento perdono la testa. Biglia replica, deve intervenire Diego Romeo, il team manager, devono intervenire i massaggiatori, i fisioterapisti, ma la scena diventa acre, diventa brutta, diventa unica. Alla fine Gattuso sottolinea che quello che sia successo, il grande dispiacere, poi per fortuna sia che Biglia si presentano chiedendo scusa uno all'altro, ma soprattutto chiedendo scusa ai compagni, ma soprattutto chiedendo scusa all'allenatore, ma soprattutto chiedendo scusa al club e soprattutto ai tifosi. brutta scena, brutta scena che dipinge un derby già brutto, già triste, che il Milan non riesce a superare questi momenti in cui deve effettuare il salto di qualità, e quindi adesso vediamo quali saranno le decisioni del club, sicuramente una multa a entrambi, perché questa scena, direi unica, purtroppo non si sono viste tante scene del genere, e di calcio internazionale, ormai ne vediamo, ne vediamo, ne vediamo e ne vediamo, e questa scena è andata davanti a 200 televisioni, tante, ormai gira, è un'immagine virale, con Chessy che ha perso completamente la testa. Adesso si arriva a, diciamo, le opinioni mutano in questi momenti, si arriva a dire che Chessy è un giocatore del Milan, che sul piano comportamentale nessun giocatore del Milan ha avuto queste reazioni tremende, e quindi anche su questo punto ci sarà da riflettere nella prossima campagna in Milan, vediamo se questo sarà un elemento di discussione per quello che riguarda poi le eventuali decisioni sul mercato, oppure verrà archiviata come un momento delicato, un momento di rabbia, un momento che può capitare a tutti, anche se i giocatori devono essere sempre di esempio. Inter verrà Gattuso, Gattuso era demoralizzato, non tanto per la sconfitta ma per questo momento, e adesso Gattuso cercherà di parlare chiaro perché il Milan adesso passerà già due settimane piuttosto complicate, perché due settimane senza i nazionali con questo macigno di questa sconfitta, una sconfitta che non compromette nulla, o meglio, compromette qualcosa per quello che riguarda la classifica, però ci sarà l'avvicinamento di Lazio e Roma e si rifarà tutto e si riprenderà da capo. Ma per quello che riguarda la classifica e il momento del Milan ne parleremo in uno dei prossimi video, però volevo sottolineare che io non ricordo un episodio del genere con un giocatore che perde totalmente la testa nei confronti di un altro. Era forse la delusione, andiamo ad assolvere solo per un minuto, che sì, la delusione di non aver aiutato la squadra, di volere stare lì a lottare per la squadra e la decisione di Gattuso di toglierlo per mettere i conti che ha spinto per cercare di portare il pallone in mezzo. Quindi un episodio brutto, un episodio da stigmatizzare. Ci penseranno il club, ci penserà Leonardo Maldini, Maldini addirittura è sceso subito per cercare di capire e di sistemare col suo carisma, con la sua professionalità, col suo fare integerrimo e poi vediamo cosa deciderà Gattuso, dicevo la società, i tifosi sono rimasti mali, un elemento in più per dimenticare questo derby, questa sconfitta per 3-2. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.